Buonasera, intanto ringrazio Susanna Di Pietra che ci accompagna anche questa sera e il professore Luca Richeldi, il direttore dell'unità di pneumologia del Policlinico Gemelli di Roma e componente del Comitato Tecnico Scientifico. Partiamo dal numero dei casi totali. Questa sera il numero dei casi totali sono 181.228 con un incremento rispetto a ieri di 2.256 persone. Ad oggi il totale delle persone positive è di 108.237 con una diminuzione, un decremento di 20 persone rispetto a ieri. Questo è per la prima volta un dato ulteriormente positivo perché andiamo a diminuire il numero delle persone attualmente positive. Prosegue anche il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. Ad oggi sono infatti 2.537 i pazienti in terapia intensiva con una diminuzione di 62 rispetto a ieri. È il numero più basso che noi abbiamo registrato in terapia intensiva da un mese a questa parte. 24.906 sono le persone ricoverate con sintomi con una diminuzione di 127 persone rispetto a ieri. La maggior parte dei positivi sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi sono 80.758 e sono il 75 per cento del totale. Oggi registriamo 454 nuovi deceduti mentre il totale dei guariti sale a 48.877 1.822 in più rispetto a ieri. Quasi il 90 per cento dei demessi guariti totali sono stati registrati nell'ultimo mese dallo scorso 20 marzo. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo sempre un numero elevato di volontari. 19.398 sono i nostri volontari che sono impiegati sia da parte delle organizzazioni nazionali che le organizzazioni territoriali di volontariato e li voglio ringraziare insieme a tutti coloro i quali sono impegnati per combattere e contrastare questa pandemia. Quindi il personale delle strutture operative, delle forze armate, delle forze dell'ordine, dei Vigili del Fuoco e il personale sanitario oltre che il personale delle regioni. Per quanto riguarda le somme raccolte sul conto corrente del Dipartimento destinato alle donazioni, ad oggi abbiamo raccolto 128.338.017 euro e ne abbiamo spesi 46 milioni per acquisto di dispositivi di protezione individuale per ventilatori. Voglio anche dire che sono online due bandi, uno per reclutare un nuovo contingente di medici che andranno a integrare la task force già inviata sul territorio e un altro per 1.500 operatori sociosanitari che sono destinati in parte alle residenze sanitarie assistenziali, alle residenze sanitarie per disabili, alle case di riposo e in parte sono destinati agli istituti penitenziari a supporto delle attività sanitarie negli istituti penitenziari. Questi bandi scadranno, quello per gli operatori sociosanitari, mercoledì alle ore 20, invece il bando dei medici scadrà giovedì prossimo alle ore 16. Voglio anche ricordare e ringraziare un team sanitario che arriva dall'Albania. sono 60 sanitari che sono arrivati a Fiumicino un'ora fa, praticamente, e questo team sarà destinato nelle Marche a supporto delle strutture sanitarie delle Marche. Per quanto riguarda invece la ricognizione, vi avevo lasciato venerdì scorso dicendo che avevamo in corso una ricognizione da parte delle regioni delle strutture che sono utilizzate e utilizzabile per la sorveglianza sanitaria e per l'isolamento delle persone positive o di chi ha bisogno di stare in isolamento. Abbiamo pressoché completato questa ricognizione, vi posso dare un dato rispetto a quello che avevo già dato delle 6.800 posti nelle strutture operative nazionali. Ora abbiamo un ulteriore dato di 262 strutture nelle varie regioni per un totale di 12.230 posti disponibili. Ad oggi ne sono occupati 4.146. Io mi fermerei qui. Prego Professore, a lei la parola. Grazie, Dottor Borrelli. Giusto una breve sintesi dei dati che lei ha fornito e un inquadramento, diciamo, su un periodo temporale un pochino più lungo. Dunque, noi abbiamo a disposizione una fotografia che è composta da sei parametri. Di questi sei parametri alcuni siamo contenti se vanno crescendo e alcuni siamo contenti se vanno decrescendo. In particolare, ovviamente, siamo contenti se calano i ricoverati, se calano i pazienti in terapia intensiva. Ovviamente siamo contenti se calano i pazienti che sono le persone attualmente positive e ovviamente saremmo contenti se calassero il numero dei deceduti. Ci sono poi invece due parametri che positivamente indicano un miglioramento della situazione quando sono positivi, che sono le persone in isolamento domiciliare e ovviamente i dimessi guariti. Ora, oggi noi siamo nella situazione in cui di questi sei parametri solo uno non va nella direzione che vorremmo, che è quello dei deceduti, che purtroppo ancora oggi sono più di 400 e che però sappiamo, da quello che ci dicono gli epidemiologi, che sarà l'ultimo parametro ad andare nella direzione che vorremmo. Oggi, il dottor Borrelli l'ha già sottolineato, è molto importante vedere per la prima volta una diminuzione nel numero degli attualmente positivi. È una diminuzione lieve, sono solo 20, ma per la prima volta vediamo il segno meno davanti a questa colonna e dall'inizio dell'epidemia. Credo che questo sia un segnale estremamente incoraggiante. Anche incoraggiante è il fatto che, se guardiamo alle ultime due settimane, abbiamo avuto tutti i giorni delle ultime due settimane un calo del numero dei pazienti in terapia intensiva. Quindi, con una chiara diminuzione della pressione sulle strutture sanitarie che, come sappiamo, è stato uno degli eventi catastrofici che abbiamo avuto nel nostro Paese. E, ripeto, per la prima volta abbiamo, per il primo giorno, un calo nel totale dei positivi. Rimane questo dato doloroso del numero dei deceduti, che ha varie spiegazioni epidemiologiche e che, ancora una volta, ci deve fare riflettere su quello che sta succedendo e su quello che è successo, ovvero ci deve fare pensare che la battaglia certamente non è vinta. Siamo, forse, in un periodo di relativa tregua per quanto riguarda la diffusione del virus, ma certamente non è il momento di abbassare la guardia. Bene, diamo spazio alle vostre domande. Buonasera. Se qui in Italia questo problema è stato mai riscontrato a qualsiasi livello e se, anche se in maniera fantascientifica, ci potrebbero essere problemi, visto anche delle problematiche che noi abbiamo rispetto ai depuratori, per le zone, diciamo, a mare, dove sfociano questi fiumi, che praticamente buttano dentro tutto ciò che possono, anche di negativo. Dunque, questa è una notizia negativa, diciamo, una notizia nuova che giunge dalla Francia, dove hanno cercato l'RNA virale in campioni di acqua e di acqua reflu anche. Ora, la presenza di RNA virale non vuol dire, non è la stessa cosa che dire c'è la presenza del virus attivo, cioè del virus che può contagiare una persona. E questo lo sappiamo anche per molti altri virus, è così per molti altri batteri. Cioè, il rilevamento dell'acido nucleico non corrisponde al rilevamento della particella virale intatta e contagiante. Certamente, ripeto, come sappiamo è un virus nuovo, quindi avremo modo di saperne di più. Però non credo, anche se dobbiamo essere cauti, che questa sia una notizia che ci debba allarmare più di tanto, o far cambiare i nostri comportamenti in maniera sostanziale. Buonasera, Lorenzo Di Cicco, del Messaggero. Una domanda sulla Lombardia. Volevo chiedere perché i contagi non sembrano rallentare, purtroppo allo stesso ritmo che nel resto del Paese, quando stimate un azzeramento dei nuovi casi e se è ragionevole l'orizzonte di fine giugno prospettato dallo studio dell'Osservatorio della Salute. Grazie. Dunque, lo studio dell'Osservatorio della Salute, come tutti gli studi che ci sono adesso, sono studi di modellistica, che quindi cercano di prevedere quello che sarà l'andamento del contagio. Ovviamente sono modelli che hanno dei limiti intrinseci, che sono quelli di prevedere il futuro, e hanno anche dei limiti intrinseci che non sappiamo da qui a quel momento quali saranno le misure che avremo messo in atto e quanto queste misure saranno efficaci. Quindi con tutti questi limiti, devo dire che non è per niente sorprendente il fatto che la Lombardia e il Piemonte in questo momento abbiano una circolazione virale più alta rispetto alle altre regioni, perché sono partite da livelli molto più alti. Quindi questo, come vediamo, è un calo sostanziale, stabile, ma molto graduale. È un calo percentuale ovviamente, quindi partendo da una massa di persone verosimilmente contagiate piuttosto alta, questo calo naturalmente è più lento. Non credo che questo rappresenti una ridotta efficacia delle misure, semplicemente fotografa una situazione che sono situazioni epidemiologicamente diverse. Buonasera, sono Gianconi del Tg3. A Mantua stanno sperimentando il plasma dei guariti sui malati per, diciamo, utilizzare gli anticorpi e sostengono che funzioni. Le volevo chiedere che cosa ne sa lei, che cosa ne sa il Comitato Tecnico Scientifico, se c'è una sperimentazione e se, secondo lei, personalmente è un sistema che ha delle chance. Grazie. Sì, dunque è una domanda interessante, perché la plasma terapia, cioè il trasferimento passivo dell'immunità, diciamo, umorale, da una persona guarita a una persona malata, è una pratica medica che è in atto da moltissimi anni, alla fine dell'Ottocento, cioè all'epoca pre-antibiotica. Quindi, che abbia una propria validità e che abbia una propria efficacia, questo lo sappiamo. Ora, se abbia validità, sicurezza ed efficacia in questa malattia in particolare, ancora non lo sappiamo. Quindi, certamente i colleghi di Mantua, che conosco personalmente, staranno facendo un'ottima sperimentazione e speriamo che dia i frutti sperati. Certamente la plasma terapia è un approccio riconosciuto dalla medicina e potenzialmente efficace. Non abbiamo, come per altre misure ancora, una risposta definitiva, semplicemente perché è passato ancora troppo tempo. Le sperimentazioni sono in corso, AIFA le sta supervisionando e, come per gli altri procedimenti diagnostici e terapeutici, penso che a breve potremo avere delle risposte più confortanti e più sicure. Per ora, certamente, è una delle speranze che sono aperte nel trattamento di questa malattia. Buonasera, Angela Caponnetto, Regnus24. Una domanda per lei, professore. Il calo nelle terapie intensive vuol dire anche che abbiamo degli strumenti migliori per affrontare a livello proprio neumologico anche il virus? Oppure questo virus comincia ad essere meno aggressivo? Che il virus sia meno aggressivo, sinceramente, non ci farei tanto conto e conviene pensare che non sia così. Che i medici si stiano facendo esperienza e stiano capendo come affrontare al meglio soprattutto i pazienti con insufficienza respiratoria, questo sì. C'è un'ampia letteratura che sta uscendo. Ci sono report dal nostro Paese e da altri Paesi colpiti che riportano le casistiche e, diciamo, l'efficacia di alcune tecniche ventilatorie, ad esempio alcune tecniche di supporto. Si è parlato della terapia iparinica, di un ridotto uso di farmaci antivirali. Quindi stiamo imparando dall'esperienza. Io credo che la netta riduzione che vediamo della pressione sulle terapie intensive sia un combinato e disposto di una migliore gestione dei pazienti, ma anche di una riduzione della circolazione del virus. Mi ricorda anche i mezzi che sono stati forniti anche dalla protezione civile, non soltanto, ma ovviamente i mezzi proprio, tecnici, i ventilatori. Cioè questo supporto ha dato, immagino, anche una mano alle strutture sanitarie. Che la situazione sia meglio oggi, due mesi fa, penso non sia impossibile dirlo e anzi sia una facile considerazione. Quindi quello che dice lei, anche che le strutture sanitarie siano non solo più esperte, ma anche verosimilmente più preparate, credo che sia una cosa logica da pensare. Buonasera Filomena Rorro. Chi l'ha visto? Rai3. Non so chi mi vorrà rispondere. Ecco, si parla tanto dell'app, del tracciamento delle persone contagiate. Mi chiedo, ma a che cosa serve? Se poi i tamponi non sono stati fatti a tutti, non ci sono per tutti e non saranno fatti a tutti in maniera massiccia. Ecco, considerando anche che l'app è scaricabile solo su base volontaria. E poi, Professor Riccardi, per lei, una persona sana, relativamente giovane, che ha contratto il virus, è stata ammalata, in terapia intensiva, in futuro potrà avere dei danni ai polmoni? Allora, sul discorso dell'app, l'app serve, sarà assai utile per consentire di conoscere chi in qualche modo è positivo. E voglio anche dire che, per quanto riguarda i tamponi, io oggi non ho detto il dato, ma da oggi abbiamo anche il dato delle persone che hanno effettuato il tampone complessivamente. Se vi ricordate, noi oggi siamo a 1.398.000 tamponi effettuati e le persone che hanno eseguito il tampone sono 943.151. Quindi ci stiamo attrezzando, sul numero dei tamponi si sta crescendo sempre più. Quindi, combinando i tamponi, l'app e le misure di individuazione dei soggetti positivi e dei possibili contagi, noi pensiamo che si possa mettere in atto un'azione di contrasto ancora più efficace rispetto a quella che si è messa in atto a fina dura. Sì, solo una parola sull'app, l'ha detto giustamente, sarà una misura che verrà adottata su base volontaria e individuale. Credo che sarà uno dei momenti in cui si verificherà la grande responsabilità degli italiani rispetto a un problema così grande di salute pubblica. Quindi mi aspetto che ci sarà una grandissima condivisione di questo provvedimento. I polmoni. I pazienti che vanno in terapia intensiva molto spesso hanno una polmonite. I dati di Paesi che hanno avuto questo problema prima di noi ci dice che circa un 30% di questi pazienti escono dalla terapia intensiva con problemi respiratori, cioè con un'insufficienza respiratoria. Ora, il nostro Ministro della Salute ha annunciato che i Covid Hospital saranno mantenuti per un lungo periodo sul territorio nazionale e io mi aspetto che questi ospedali saranno quelli che saranno in carico di fare il follow-up di questi pazienti, cioè di vedere cosa succede nel tempo ai polmoni di questi pazienti, se alcuni necessiteranno di ossigeno per un certo periodo, se necessiteranno di riabilitazione, di misure particolari. Quindi sì, si creerà una certa gruppo di pazienti che avranno un problema respiratorio, speriamo per il minor tempo possibile, sono certo che saranno seguiti e monitorati e trattati adeguatamente all'interno del nostro servizio sanitario. Salvatore Gulisano, Piazza Pulita, La Sette. Volevo fare due domande. La prima, sulle RSA, noi ci siamo molto occupati come programma delle RSA, soprattutto nell'ultimo mese, in particolare in Lombardia, dato che il governatore Fontana ha detto che la Regione è stata consigliata dai tecnici nel momento in cui ha deciso di spostare i Covid ancora positivi nell'ultima fase, dagli ospedali alle RSA. Volevo capire, quando parlava di tecnici, evidentemente immagino si riferisse anche all'unità di crisi regionale, di cui fa parte per esempio la protezione civile, almeno a livello di Regione Lombardia, ecco se è stato un errore dare quei consigli, almeno col senno di poi, e non fare, magari come in Cina, dove erano stati subito aperti, per esempio, i Covid hospital per evitare, diciamo, che si diffondesse il contagio. E poi volevo chiedere, per quanto riguarda i dati, abbiamo visto appunto c'è un calo, diciamo, il tracciamento verrà agevolato sicuramente dall'app. Nell'attesa dell'app, il tracciamento, diciamo, soprattutto dei maggiori nuovi contagi che riguardano, diciamo, le situazioni domiciliari, c'è un isolamento domiciliare, ecco, come vengono monitorati? Perché in questa fase il problema è che altri paesi che sono arrivati al contagio dopo di noi vedono un calo maggiore del nostro, quindi in chiaro sono stati più bravi nell'isolamento e nel tracciamento dei contatti? Parto io con la prima parte della domanda. Come sapete, la gestione della sanità è a livello regionale, è una competenza della Regione con un coordinamento del Ministero della Salute. Per quello che riguarda il sistema di protezione civile noi non siamo entrati su questa tematica né abbiamo dato disposizioni di questo tipo. Io non entro, cioè non so dirle se è stato un errore o non è stato un errore. Per quello che mi riguarda è una valutazione che non riguarda la sfera di competenza del Dipartimento della Protezione Civile. Noi non abbiamo avuto indicazioni. Noi come Dipartimento della Protezione Civile, come sistema della protezione civile, l'ho detto sempre, siamo a supporto e questa è un'emergenza sanitaria, la protezione civile è a supporto della gestione sanitaria. Abbiamo dato il nostro contributo di questo tema, non ce ne siamo occupati come Servizio Nazionale della Protezione Civile e come Dipartimento della Protezione Civile né come Comitato Operativo. Su questo noi non diamo indicazione e ne abbiamo dato indicazione. Non è una nostra competenza. Non è una nostra competenza neanche da ora in poi daremo indicazioni di questo tipo. Sì. Dunque, come per molte altre, quasi tutte le malattie infettive, ci sono tre punti principali che basano il controllo. Il primo è l'identificazione dei casi. Il secondo è il tracciamento dei contatti per vedere chi è stato. E il terzo è l'isolamento. Queste sono, diciamo, le pietre miliare di un controllo di qualsiasi malattia infettiva. si basano su diverse caratteristiche di un servizio sanitario nazionale. In particolare, i servizi di prevenzione territoriale sono quelli che sono in carico del tracciamento dei contatti e anche dell'isolamento. Questo, tanti anni fa, avveniva attraverso degli strumenti che erano strumenti, diciamo, territoriali, molto efficaci. Lei è giovane, non si ricorderà, ma io sono specialista anche in tisiologia, oltre che malattia e malattia respiratoria, c'erano i dispensari antitubercolari in Italia che hanno rappresentato un baluardo per la riduzione della circolazione del bacillo della tubercolosi quasi ad arrivare alle soglie dell'eliminazione. Così esistono dei presidi territoriali che sono quelli in carico di andare a trovare i contatti e cercare di vedere se sono positivi e in caso isolarli. Questo è in carico oggi alla medicina territoriale. La medicina territoriale è in carico ovviamente alle regioni e al servizio sanitario nazionale. Quello che abbiamo di nuovo rispetto alla tubercolosi è la tecnologia. Quest'app di cui parlavamo prima è uno strumento in più per il tracciamento dei contatti che ovviamente non era disponibile ai tempi della tubercolosi e che si è dimostrata effettivamente molto efficace in paesi che l'hanno utilizzato, altro esempio, penso alla Corea del Sud. Quindi questa attività è un'attività fondamentale che soprattutto nei mesi futuri sarà importante e credo che il rafforzamento che è in atto della medicina territoriale, dell'igiene pubblica e di questi strumenti vada in quella direzione. Ogni strumento ulteriore, ad esempio strumenti tecnologici come quest'app di cui si parla, certamente sono soli benvenuti nel cercare di fare quest'opera di tracciamento che è critica ma non è molto semplice. Non credo che possiamo dire questo. La nostra curva è una curva in parte diversa da quella di altri paesi perché è una curva che ha avuto un andamento epidemiologico molto veloce e molto crescente nei primi momenti. Non credo si possa dire se siamo stati carenti. Credo che lo si potrà dire però nelle settimane e nei mesi futuri se questa attività sarà efficace. Ribadisco ancora una volta una parte di questa efficacia si baserà molto verosimilmente sull'utilizzo di questa app che essendo su base volontaria se non verrà utilizzata da una larga maggioranza della popolazione non potrà esplicare i propri effetti positivi. Gli epidemiologi dicono 70% 80% ma quello che dicono gli epidemiologi è che ovviamente più sono le persone che utilizzeranno questo strumento più efficace sarà lo strumento. Sono Gavin Jones della Reuters e volevo chiedere al dottor Borrelli di queste 454 persone morte comunicate oggi quando sono veramente morte? Cioè quale è il lasso di tempo fra la registrazione fra gli ospedali la regione la protezione civile perché ci sono varie indicazioni che sentiamo che c'è un lasso di tempo non indifferente. È la stessa cosa con i casi la dottoressa Gismondo ha detto poco fa che ci sono almeno 10-12 giorni fra il momento in cui una persona risulta positivo e quando è comunicato da voi e se c'è questo lasso di tempo così lungo mi pare che non ha molto senso fare un confronto fra il numero di tamponi fatti oggi e il numero di casi perché si dovrebbe parlare dei numeri di tamponi fatti 10 giorni fa e sulle RSA vorrei chiedere se voi avete intenzione di ormai sono stati diversi studi sulle RSA per cercare di capire quante persone sono veramente morti se ho capito bene voi già includete quelli fatti che sono risultati positivi al tampone però si sa che ci sono molto molto di più di quelli che avevano i sintomi la Francia per esempio ha già incorporato i loro dati ufficiali quelli che pubblicate voi con una stima di quelli morti nelle RSA e volevo sapere se avete intenzione anche voi di fare questo per dare una vera una stima più veritiera dei morti in Italia per questo e poi allo specialista se posso volevo chiedere questo platò dei morti che c'è da un po' di tempo ormai lei ha detto che gli epidemiologi dicono che sarà l'ultima cosa da calare ma per esempio il virologo Andrea Crisanti ha detto la settimana scorsa che se non c'è questa è la giovedì mi sembra se non c'è un forte calo un netto calo dei morti entro una settimana da allora vuol dire che qualcosa non quadra dobbiamo porci delle domande le cose non vanno a secondo le aspettative volevo sapere se lei è d'accordo con questa analisi sono tre domande alla fine partiamo dalle domande relative al dato che noi diamo il dato è un dato giornaliero che ci viene comunicato dalle regioni per quanto riguarda l'esito dei tamponi giorno per giorno ci viene comunicato l'esito dei tamponi che vengono effettuati e sulla base di quell'esito noi vediamo anche il numero dei tamponi che sono stati eseguiti per quanto riguarda anche i deceduti così come noi abbiamo il dato dei positivi giorno per giorno ci viene comunicato dalle singole regioni viene comunicato al ministero della salute dal ministero della salute al dipartimento che fa questa riaggregazione il dato dei deceduti è evidente che il dato dei deceduti è rispetto a chi ha eseguito un tampone e noi sappiamo che è un positivo sappiamo anche che sull'RSA c'è in corso uno studio da parte dell'Istituto Superiore di Sanità che credo che quanto prima sarà completato e in quello studio potranno essere fornite tutte quante le informazioni anche quelle che chiedeva lei quindi io non posso che rimandare a uno studio epidemiologico che l'Istituto Superiore della Sanità sta facendo noi come dato abbiamo la massima trasparenza vi diamo i dati che a noi vengono forniti dal ministero della salute e vengono omogenizzati sulla base dei dati trasferiti dalle regioni per me sono i morti nelle ultime 24 ore perché non avrebbe senso andare a inserire morti a meno che non c'è stato un errore come qualche volta ve lo abbiamo precisato e comunicato rettificato il dato dei nuovi positivi o il dato di alcuni deceduti è il dato delle ultime 24 ore sui casi di questo 8, 10, 12 giorni il dato è noi prendiamo i riferimenti ai casi in relazione ai nuovi tamponi che vengono comunicati che il tampone l'esito del tampone normalmente è un giorno per quello che ne so io ci sono delle strutture che in sei ore restituiscono come il Celio qui a Roma riesce a fornire in un breve lasso di ore l'esito del tampone quindi per me i dati sono quelli che vengono forniti giorno per giorno dalle regioni non conosco questo studio questa affermazione della dottoressa Gismondo e per me i dati sono quelli che mi vengono comunicati giornalmente anche io mi scuso non ho letto la dichiarazione del professor Crisanti ma ne interpreto lo spirito però la domanda che ha fatto lei sui deceduti è molto importante l'istituto superiore di sanità che sta facendo un'analisi dettagliata anche sui deceduti ci dice però che questi deceduti in media sono stati ricoverati circa due settimane fa quindi anche se riceviamo in tempo reale il numero dei deceduti vediamo un qualcosa che è successo tempo fa cioè sono pazienti che sono stati molto spesso in terapia intensiva per una media quasi due settimane a volte anche di più però quello che vorrei dirle è che di quei sei indicatori che noi abbiamo discusso inizialmente questo è l'unico che sta andando ancora nella direzione sbagliata sta andando nella direzione sbagliata perché i morti aumentano ma gli altri stanno andando nella direzione giusta ora i decessi sono come sappiamo e come ci è stato detto fin dall'inizio dagli esperti epidemiologi l'ultimo parametro che tenderà a diventare negativo e a normalizzarsi appunto perché vede una qualcosa che è successo nel passato quindi io direi che il professor Crisanti certamente è un grande esperto del campo e avrà fatto un ragionamento che mi andrò a leggere e che apprezzerò certamente però il fatto che negli ultimi quattro giorni abbiamo avuto comunque un numero a decrescere cioè sono stati quattro giorni in cui abbiamo avuto sempre la cifra 4 sempre 400 come unità di morte prima ne avevamo 500 ne abbiamo avuti 700 abbiamo avuto giornate con mille morti al giorno quindi anche quel trend per quanto lento a mio parere personale sta andando nella stessa direzione quindi non lo prenderei come un parametro per dire allora sta succedendo qualcosa che non riusciamo a capire però ripeto andrò a leggere certamente la dichiarazione del collega Crisanti buonasera Angelo Zaccone Teodosi per Riformista sono due domande correlate quindi in realtà è una il tema è trasparenza e comunicazione noi credo giornalisti e i cittadini tutti siamo contenti lieti che il dottor Borrelli nell'arco di questi mesi abbia sempre risposto cercato di rispondere alle domande che gli sono state poste adesso però il processo decisionale sembra che si sta spostando verso la task force e il presidente Colau non sta manifestando alcun segno diciamo di comunicazione eppure insisto il processo decisionale sta andando lì dato che lei e il dottor Borrelli insieme al commissario Orcuri fate parte come esperti anche di questo comitato volevo domandarle se se la sente di rispondere non quando e come comunicherà se il problema della comunicazione da parte della task force è stato affrontato all'interno della task force la seconda questione è connessa alla comunicazione e alla trasparenza perché siamo tutti lieti che insomma siamo in una fase decrescente di questa pandemia almeno ci auguriamo e qualcuno sta cominciando a scavare sul passato l'argomento è sempre trasparenza comunicazione e assunzione di responsabilità allora è di pochi giorni fa una parlamentare del Movimento 5 Stelle Alessandra Ermellino ha presentato un'interrogazione al Presidente del Consiglio e al Ministro Speranza per domandare che come mai nella relazione annuale che i servizi segreti italiani hanno presentato a fine febbraio con intervento del Presidente stesso Conte il 28 febbraio l'hanno presentata non c'era una parola di riferimento alla emergenza pandemia molto curioso questa mattina delle gentili colleghe Monica Guerzoni e la Fiorella Sarzanini hanno dedicato una lunga analisi a ricostruire la querella secondo loro che c'è stata tra il Ministro Speranza e il Presidente Conte sui tempi della chiusura sembrerebbe che il Ministro fosse molto più intenzionato a chiudere prima invece il Presidente del Consiglio più tardi e questa domanda si collega alla precedente e conclusivamente dato che non credo che ci sarà necessità spero di una commissione di inchiesta parlamentare tra qualche settimana o tra qualche mese me lo auguro la domanda è non crede che i verbali del Comitato Tecnico Scientifico possano divenire di pubblico dominio grazie allora partiamo dalla prima questione faccio parte anche della sforza del Presidente Colau e le posso dire che è stato affrontato nel corso della prima riunione c'è anche una verbalizzazione è chiaro che la comunicazione la farà il Presidente Colau ma l'interlocuzione è col Presidente del Consiglio dei Ministri con i Ministri interessati quindi è evidente che non si può parlare prima se non si riferisce a chi ti ha nominato e non si fornisce il risultato che è stato richiesto per quanto riguarda quello che dice lei io ho preso parte a tutte le riunioni e insieme con il Ministro Speranza e il Presidente Conte quindi non c'è stata alcuna divergenza di vedute di opinione sul da farsi voglio ricordare c'è stato sempre e l'ho detto più volte il Presidente del Consiglio lo ripeto io le misure che sono state adottate sono state adottate sulla base di quello che è il principio della proporzionalità e dell'adeguatezza che di volta in volta la situazione richiedeva per quanto riguarda i verbali del Comitato Tecnico Scientifico non sono secretati tecnicamente contengono delle informazioni non classificate controllate sono delle informazioni anche dati sensibili che stiamo valutando quando renderli note stiamo facendo delle valutazioni di ordine tecnico giuridico c'è anche la collega qui di chi l'ha visto che mi aveva posto una domanda qualche giorno fa io non ho dimenticato la domanda quindi stiamo facendo questa valutazione e quanto prima renderemo note è evidente che ci sono delle informazioni che ancora all'attualità esigono una riservatezza che speriamo quanto prima non abbia più ragione di essere però posso dire che come Dipartimento come avete visto abbiamo sempre assicurato la massima trasparenza e stiamo lavorando anche per mettere in rete tutto quello che abbiamo fatto l'abbiamo già fatto sulla parte negoziale stiamo migliorando le informazioni di quella che è l'attività che è stata fatta dal Dipartimento della Protezione Civile dal Sistema di Protezione Civile Buonasera Giorgia Sodaro a DN Kronos volevo chiedere al professor Richeldi come membro del Comitato Tecnico Scientifico vista la grande differenza di numeri che c'è tra le regioni insomma la Lombardia un certo numero di contagio alcune regioni oggi invece registrano zero contagi dal punto di vista scientifico secondo lei secondo il Comitato è più giusta una riapertura diversificata per regioni o una riapertura unica a livello nazionale dunque questo è un argomento molto caldo che però mi dà diciamo l'occasione e la ringrazio per dare anche una notizia cioè per fare rimarcare un dato noi abbiamo quattro regioni che oggi non hanno riportato decessi e altre otto regioni che hanno riportato meno di dieci decessi quindi abbiamo metà delle regioni italiane che hanno riportato meno di dieci decessi oggi quindi a rimarcare ancora quello che l'efficacia delle misure che abbiamo che sono state messe in atto se sia più razionale una apertura differenziata un rallentamento differenziato del lockdown o una misura generalizzata sul territorio nazionale questo sinceramente non è una cosa sulla quale mi sento di commentare perché dipende da tre fattori uno è quello che dicono i modelli e i modelli sono in evoluzione perché i modelli stanno raccogliendo dati stanno vedendo cosa sta avvenendo sul territorio e quindi man mano ci avviciniamo a quella che è stata un po' la deadline che sono gli inizi di maggio più informazioni avremo dai modelli quindi questa è la prima cosa la seconda cosa sono delle decisioni anche relative ovviamente al tessuto socio-economico delle regioni che è molto diverso e la terza cosa è relativa alla necessità di mobilità interregionale quindi io prevedo che comunque ci sia un network di misure che siano diffuse sul territorio nazionale se poi a livello regionale a livello provinciale i singoli governatori i singoli amministratori o il governo il ministero della salute raccomandi anche temporaneamente delle misure specifiche questo direi che non sia possibile escluderlo ma si potrà vedere solo più vicini alla data del 4 maggio se effettivamente abbiano un rapporto costo-beneficio favorevole comunque su questo vi è richiesta un vostro parere comunque entro il 4 maggio o non certamente è uno dei temi è uno dei potenziali dei potenziali argomenti nel senso che il modello che verrà proposto il modello che si sta sviluppando è un modello che prende ovviamente in considerazione diversi scenari e questi scenari si tratterà poi per il decisore politico di scegliere quello che ha un rapporto tra i costi e i benefici migliore prego bene allora abbiamo finito qui buonasera e a giovedì grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti